Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica, come state? Oggi è il giorno dopo la finale di Champions League, vinta dal Manchester City in finale contro l'Inter. Io ieri sera non mi sono visto interamente la partita perché ero fuori a cena con amici, però tutto il secondo tempo e gli ultimi dieci minuti del primo ce lo siamo riusciti a guardare con il telefonino, non su uno schermo grande perché appunto eravamo in un ristorante in cui non c'era purtroppo la partita e devo dire la verità non mi aspettavo un Inter così coriacea, robusta, in grado di tenere il Manchester City in bilico fino all'ultimo minuto e tra l'altro un Inter che va a prendere anche una traversa con Di Marco e se Lukaku non avesse parato quel tiro chissà come poteva finire questa partita. Io avevo fatto un pronostico che era o ne fa 4-5 il City oppure se è una partita equilibrata la vince l'Inter, il mio pronostico non è stato azzeccato, ieri ho vinto una schedina, ho vinto 22 euro di schedina mi pare, non male perché ne avevo giocati 60, io non sono solito giocare le schedine però durante le finali di Champions, di solito lo faccio, finali Champions o mondiali, quest'anno mondiale non l'avevo fatto tra le altre cose, vi fa capire proprio il mio livello di ludopatia e infatti su 60 euro investiti 90-22 è stato veramente un ottimo affare, bravo Luca, grandissimo campione. Sapete tutti, l'avevo detto, non avrei avuto piacere nella vittoria dell'Inter, non mi sarebbe piaciuta una vittoria dell'Inter e mi riferisco a soggetti come Marco Materazzi, perché stamattina ho visto il video di Materazzi che esce dallo stadio, tutto triste, gli fanno delle domande e lui non risponde e la mia mente si è proiettata subito a Berlino nel 2014-2015, io c'ero, ero distrutto, sportivamente distrutto dentro di me, perché? Perché si era appena persa la finale di Champions League, si poteva cercare di portare a casa una coppa e Materazzi era a Berlino, anche lui, in quello stadio in cui lui poi divenne campione del mondo qualche anno prima, quello è stato il momento in cui ho apprezzato il Materazzi giocatore, perché comunque si era intrecciato con il mio tifo in quell'occasione, nel 2006, ma nel 2014-2015 vederlo uscire dallo stadio tutto bello contento, che rideva, sghignazzava, rideva sotto i baffi, mentre noi eravamo tutti distrutti e lui se ne andava con questo ghigno veramente a pochi metri da me, è stata un'immagine che mi sono portato dentro, quindi mi dispiace per i tanti interisti, amici interisti che sono qui sul canale o quelli che comunque ho nella vita, perché ho tantissimi amici interisti al quale voglio tantissimo bene, ci siamo passati, sappiamo tutti com'è, ma per persone come Materazzi non posso assolutamente dire che mi dispiace, anzi, ricordo dichiarazioni dello stesso ex difensore dell'Inter, cui diceva Berlino e Cardi, Fiocero, ed è stata veramente una goduria vedere gli Juventini in quel modo. C'è una differenza, non siamo tutti uguali, caro Marco, e a me il piacere è solamente nei tuoi confronti, perché vivi il calcio in una maniera che trovo veramente sbagliata, ecco, diciamo così, sbagliata. E alla fine vince la squadra più forte, vince la squadra più forte, che ha dimostrato di essere più forte durante tutta la stagione, ma che non ha dimostrato di essere più forte probabilmente durante la finale, perché se l'Inter ha fatto la prestazione che doveva fare, il City non ha fatto la prestazione che doveva fare, il City aveva abituato a ben altri standard, non so se era stanco, non so se era preoccupato, se aveva paura, non ne ho idea. Sicuramente anche l'uscita, l'infortunio di De Bruyne è stato un duro colpo, perché comunque stiamo parlando di un giocatore fenomenale. Holland in attacco è stato poco incisivo, non è stato praticamente mai attivato, l'Inter è stata bravissima a disinnescare Holland, e Holland che comunque vince la Champions League, vince la Champions League, ma non da protagonista nella fase finale. Stiamo parlando comunque di un giocatore che con la Champions League ha un feeling meraviglioso, lo dimostrano i suoi numeri che sono veramente impressionanti per rapporto partite giocate e gol segnati. Però io l'anno scorso, quando è arrivato Holland, ricordo di aver detto una cosa, o sarà un flop allucinante, o sarà un calciatore che cambierà per sempre il concetto di Manchester City. Perché? Voglio arrivare a fare questo discorso qua. Per un motivo, Guardiola ha sempre giocato senza un centravanti di ruolo, all'interno del suo percorso da allenatore. Ha messo Messi a fare il centravanti al Barcellona, quando ha avuto Ibrahimović non si è trovato proprio benissimo, quando è andato al Bayern Monaco ha giocato con Lewandowski, ma poi l'ha spiegato molto bene, avevo quei giocatori lì, quindi mi sono riadattato, ma non era il mio stile di gioco, e in questi anni al City di attaccanti veri e propri non se ne erano visti di numeri nuove. C'è stato Aghero, sì, però stiamo parlando di un giocatore con tutt'altre caratteristiche. C'era Julian Alvarez, che a 23 anni diventa l'unico calciatore nella storia ad aver vinto nella stessa stagione il campionato Champions League mondiale. A 23 anni l'unico calciatore nella storia ad aver completato questa roba qua. veramente un risultato clamoroso, clamoroso, e stiamo parlando di un giocatore che nel club fa la panchina, perché ce n'è un altro che è più mostruoso, quindi stiamo parlando veramente di una squadra che sulla carta doveva vincere questa Champions League, l'ha vinta e quindi non ha fatto un'impresa, ma ha semplicemente mantenuto le aspettative con un allenatore che è tra i più bravi al mondo. Però voglio fare questa riflessione perché quando il City prende Holland mi meraviglio, proprio perché Guardiola aveva sempre giocato senza l'attaccante. Io l'avevo letto in questa maniera, secondo me Guardiola si è reso conto che gli serveva qualcosina in più là davanti, che aveva bisogno di caratteristiche diverse là davanti. Io quest'anno l'ho guardato il City, con più o meno costanza. Mi ricordo che all'inizio Holland era un giocatore che segnava raffica, ma la palla non la toccava mai. Toccava mai la palla, andava mai a dialogare con quegli altri. Si preoccupava soltanto di fare la fase di rifinitura. Quindi una sorta di corpo estraneo al meccanismo che doveva essere il Manchester City. Però perché è stato importantissimo e determinante? Perché se tu già ha una macchina che va non bene, di più, benissimo, quasi alla perfezione, aggiungi un pericolo, che diventa un pericolo costante, perché veramente stiamo parlando, mi pare, della scarpa d'oro tra l'altro, di quest'anno, su quella rimonta, l'Arsenal, quella Premier che si portano a casa, qual è il pensiero dei difensori? Cioè io vado ad affrontare una squadra che comunque di pericoli me ne crea 100 e poi c'hanno un attaccante che tutte le volte che mi attacca alla profondità o che si mette spalla alla porta, per me è un disastro. E quindi il difensore si preoccupa, si gioca nella sua mente la partita contro Erling, senza pensare che dall'altra parte ci sono anche altri pericoli. E credo che sia stata un po' la chiave per il successo e la vittoria di questa Champions League. Perché non devi più solo preoccuparti dei ritmi, dei cambi di posizione, devi più preoccuparti dei tagli, del possesso palla, del palleggio, della velocità con cui siamo nel pallone. Devi preoccuparti anche di marcare un giocatore che nulla ha a che vedere con quella filosofia, ma che è in grado di fare la differenza a livelli allucinanti. E quindi inizi a spendere, a dedicare energie nervose e mentali a preoccuparti di Holland e dietro c'è un'altra macchina quasi perfetta che è il Manchester City. Mi è piaciuto molto Pep qua, ragazzi mi è piaciuto tantissimo. Perché? Perché è andato a ritrattare un po' quelle che erano le sue convinzioni. Quella che era il suo credo. Se prima dice al Bayern Monaco gioco con Lewandowski perché c'è Lewandowski, cosa fai? Giochi senza Lewandowski? Ed è un attaccante, una punta. Solitamente quella tipologia di giocatore non ce l'avevo. Qua se lo va a prendere Holland e poi lo vanno a prendere come un capolavoro perché l'hanno pagato veramente pochissimo e quindi bravi, bravissimi loro. Però va a cambiare. Si mette in discussione se i risultati, se quel risultato che stavo cercando due anni fa dove perdo in finale di Champions contro il Chelsea non lo riesco a raggiungere con il mio, credo, la mia filosofia. Non è che forse c'è bisogno di cambiare qualcosa, di ricredere le mie convinzioni? Questa credo sia stata veramente una cosa clamorosa da parte di Guardiola e infatti poi sono arrivati i risultati e infatti poi il City fa il triplete e Guardiola diventa il primo allenatore della storia a fare due triplete con due squadre diverse. È ovvio che stiamo parlando di una squadra che ha una disponibilità economica altissima. Io sto guardando in questi giorni vedo che ci sono delle classifiche che metta la Juve nelle squadre che hanno speso di più però ragazzi negli ultimi 5-10 anni tante volte si fa il conto senza aggiungere il fatto che però la Juve ha anche ceduto la Juve ha anche ceduto tanti giocatori per milioni di euro e quindi tra virgolette si è autofinanziata quindi ha speso tanto sì il valisborso economico vero e proprio almeno negli ultimi anni è stato più basso rispetto al passato invece ci sono squadre come magari il City che hanno la possibilità di spendere anche senza poi dover incassare dietro e quindi è più difficile cioè non prendiamoci in giro oggi il City è una delle squadre più potenti al mondo è una delle squadre più ricche al mondo probabilmente è davvero la squadra più forte del mondo ora vedremo se si continuerà con Guardiola oppure no perché non ho visto il post partita però mi era sembrato di leggere che c'erano dei dubbi su questa roba quindi vediamo e stiamo parlando comunque del secondo mi pare sì mi pare di sì allenatore più pagato al mondo Guardiola con 22 milioni di euro il primo dovrebbe essere Simeone con 34 milioni di euro all'anno sempre e il terzo dovrebbe essere Klopp con 18 milioni di euro all'anno quindi stiamo parlando di allenatori con degli stipendi da capogiro e ora qua voglio inserire la Juve voglio inserire la Juve perché Allegri e l'Arabia Allegri e l'Arabia se abbiamo parlato di Guardiola che guadagna 22 milioni e mezzo di euro all'anno 22 e 4 e il primo è Simeone con 34 l'offerta che arriva dall'Arabia per Allegri dovrebbe essere intorno ai 20-21 milioni di euro all'anno questo lo posizionerebbe al terzo posto alle spalle di Guardiola ma di pochissimo di un milione di euro all'anno e stiamo parlando dell'allenatore che ha vinto la Champions League quindi stiamo parlando veramente di un'offerta allucinante ieri qualcuno mi diceva ma secondo me in realtà è una fake news messa in giro perché così Allegri può dire ho rifiutato anche milioni di euro per l'amore della Juve secondo me ragazzi no non è una fake news anche perché le ricostruzioni giornalistiche sembrano essere arrivate quasi tutte a confermare almeno l'esistenza di questa offerta dall'Arabia che non significa che accetterà che rifiuterà allora ragazzi se davvero questi arrivano a mettere sul piatto 20-21 milioni di euro all'anno per un triannale stiamo parlando di 60 milioni di euro in tre anni io vedo difficile per Allegri rifiutare una roba del genere perché ieri il mio dubbio era ma è vera questa offerta non tanto può accettare non accettare quello lo vedremo dopo ma è vera questa offerta cioè è vero quello che si sta raccontando che si sta dicendo sembrerebbe di sì e se davvero si arriva a offrire una cifra del genere io credo che sia impossibile da rifiutare per Massimiliano Allegri che sia impossibile ma proprio a livelli allucinanti quindi ripeto non credo che sia un discorso di faccio venire fuori questa anche perché non è che Allegri può controllare tutti i media in Italia cioè questa roba mi sembra folle che Allegri possa avere il controllo sui media no ci credo poco sinceramente ci credo poco anche perché poi semplicemente poi il giornalista fa la ricostruzione si informa e nota che quindi teniamo sotto controllo questa roba qui perché ragazzi qua si rischia di davvero di avere un annuncio a ore se Allegri accetterà questa roba qui se non l'accetterà io credo che con tutta probabilità si andrà avanti con Allegri a questo punto siamo in un momento di un punto interrogativo incredibile possiamo fare poche previsioni davvero c'è c'è pochissimo da dire però stamattina sentivo Fabiana della Valle che parlava anche di PSG di questa pista che si sarebbe riaperta tanto Allegri è in vacanza a Monte Carlo e lì ha incontrato e incontrerà questi emissari per discutere di questo stipendio e a quanto pare anche dal PSG però a me il PSG sembra un nome strano perché io sono uno di quelli per dire che ha creduto al fatto che Real Madrid potesse aver contattato Allegri nei due anni di stop secondo me ci sta che l'abbia fatto veniva da cinque anni ad alti livelli ora non credo che il PSG invece si informi su Allegri dopo due anni come questi è il tempismo che mi lascia un po' perplesso devo dire la verità però mi lasciava perplessa anche un'offerta dalla rabbia che invece a quanto pare è confermata quindi aspettiamo e vediamo chiudo con quel parallelismo che facevo prima tra Guardiola e Allegri perché Guardiola arriva a mettere in discussione i suoi i suoi principi anche all'interno di una macchina che già stava funzionando quello che a me ha dato veramente fastidio in questi due anni di Allegri è stato il ok parto con il mio concetto ci sta sono convinto di questa cosa ci provo non funziona continuo ad andare avanti così senza mai aggiungere niente o mettere in discussione niente io credo che questo sia fortemente sbagliato cioè se un allenatore che comunque stava già raggiungendo dei risultati arriva a mettere in dubbio perché vuole fare il passo successivo e viene premiato dalla vittoria della Champions non può invece un allenatore che non stava portando a casa i risultati che si aspettava la società i tifosi lui stesso probabilmente non arrivare a mettersi in dubbio e voler andare avanti io non mi stancherò mai di ripeterlo Allegri è testardo Allegri è testardo però puoi essere testardo finché vuoi nella vita però se poi vieni messo in mezzo a una società a una squadra a Juventus i tifosi devi cercare di un po' mettertela via perché ci sono delle responsabilità poi ad essere allenatore della Juventus io davvero lo sapete anche quando mi si dice Allegri deve dimettersi Allegri è giusto che se li pigli quei soldi perché il contratto ce l'ha nessuno ha obbligato la Juve a farlo gli spettano di diritto perché dovrebbe mai rinunciare a quei soldi lì ma per favore per l'amor di Dio però mettere in dubbio i propri principi se una cosa non funziona e andare oltre andare oltre delle convinzioni quello lo deve fare quello lo deve fare perché lo impone il compito e il ruolo che sta ricoprendo questi sono semplicemente i miei due centesimi